Direi che i due dati concreti di queste elezioni sono chiari, visibili a tutti. Da un lato una maggioranza silenziosa che se ne sta a casa, con la quale dobbiamo dialogare e ovviamente alla quale dobbiamo parlare. E dall'altro un risultato eccezionale della Lega. Penso che se qualcuno ha il coraggio di dire che non è così vuol dire che non vuole riconoscere la realtà. La Lega avrà la forza di correre da sola? Ma guardi, noi siamo persone per bene, per cui finiamo questo mandato che è la cosa che i Veneti vogliono. E' il completamento di un progetto di governo che è unico, che è stato eccezionale in questo Veneto e dopodiché si vedrà. Io sono solidale con la mia maggioranza ed è fondamentale, come dico sempre, ad ogni elezione non cambiare la schema di gioco perché se no alla fin fine si fa politica e si fanno poche cose per i cittadini. Il problema del senteismo in Veneto, c'è lo stesso rischio? No, i Veneti andranno a votare, ve lo garantisco io che andranno a votare. Ve lo dice uno che è sempre in mezzo ai Veneti e certo è che in Emilia Romagna il 63% di persone che non va a votare, di Emiliano e Romagnoli che non vanno a votare, è un chiaro segnale a chi non ha saputo ascoltare. Adesso c'è la Lega, li ascolta la Lega che ha preso il voto di un cittadino ogni cinque.